L'universo dei TCG sta per crollare? Il sempre crescente numero di titoli in uscita saturerà il mercato facendo implodere questo mondo dall'interno? E cosa c'è da aspettarsi in un futuro che vede esiti sempre più incerti? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande? Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Negli ultimi giorni sono stato invaso da notizie che vedono come protagonisti i nuovi titoli in uscita nei prossimi mesi ed anni. Anche qui per ogni nuovo ciclo consiglio quelli che secondo me sono da tenere maggiormente d'occhio e puntualmente ogni volta c'è sempre qualche utente che afferma sono troppi. Sì, come dargli torto. Oramai qualsiasi marchio che dispone di cash crea il proprio TCG, vedasi la Disney con l'Orkana e Star Wars in uscita a marzo, One Piece che dal manga è arrivato sui tavoli da gioco diventando un grande successo, i diversi titoli comparsi in Union Arena e la miriade di GCC ancora in fase di sviluppo. Eh, Arconte, ma non si riesce a stargli dietro. Troppi giochi e troppi soldi da dover spendere. Qui si rischia di ipotecare la casa per avere la possibilità di almeno provarli tutti. Vero, sono semplicemente troppi e il tasso di pubblicazione dei set appartenenti ad un solo TCG a volte fa perdere di interesse ancora prima di far nascere la passione. Eh, infatti ho provato ad avvicinarmi a One Piece ma le carte costano troppo. Esce un'espansione ogni tre mesi e questo non ti dà la possibilità di goderti il meta del momento. È tutto un rincorrersi di notizie che annunciano nuovi prodotti, uscite speciali, carte promo da dover recuperare altrimenti a biomazzo che vuoi costruire, eccetera. A questo punto lascio stare e mi do alla briscola. Tralasciando il fatto che la briscola è il primo gioco di carte della storia, ancora prima di Magic, nel video odierno analizzeremo ogni aspetto che vede i GCC essere sempre di più, rispondendo infine alla domanda che molti di voi si stanno facendo tuttora, ovvero una mole così imponente di nuovi TCG non rischierà di mandare in malora un business super redditizio portando all'estinzione anche i tre colossi che rappresentano questo mondo, ovvero Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo, perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un clic, per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quale sarà il destino dei TCG se si continuerà a pubblicare un gran numero di titoli negli anni venturi. Andiamo a dargli un'occhiata. Sono troppi! La prima cosa che mi viene detta, come già accennato poco fa, è ultimamente stanno uscendo troppi giochi, sono davvero troppi, ogni anno ne escono tipo 6 o 7, non è possibile andare avanti così. Analizziamo per bene questo concetto. Da quando nel 93 è stato pubblicato Magic, il primo del suo genere nella storia, sono passati oramai 31 anni e dopo di esso solo due altri TCG hanno avuto maggiore fortuna, ovvero Pokémon e Yugi. Ma attenzione, dal 93 al 96, quando sono arrivati i mostriciattoli tascabili in Giappone da scagliare sul tavolo, sono usciti ben 67 titoli nel mezzo, che sono circa 32 se facciamo la media a tre anni. Da Pokémon a Yugi, lasso di tempo 96-99, 40. In tre anni circa 14 di media. Poi ci sono stati altri TCG che hanno fatto la loro storia, vedasi Duel Masters, World of Warcraft, Final Fantasy 3 in Card Game, Force of Will, Dragon Ball Super, fino ad arrivare ai più conosciuti Flash & Blood, Metazoo, Digimon, One Piece, Lorcana e Sorcery. Ma anche in questo caso, di altri titoli nel mezzo ce ne sono stati, ed in totale al momento si contano più di 400 TCG escludendo ovviamente i Living Card Game come Keyforge. Facendo ancora una media, dal 93 ad oggi, all'anno sono stati pubblicati attorno ai 13 GCC. Poi è chiaro, molti sono nati e morti nell'arco di pochi mesi o anni, mentre altri hanno saputo resistere all'invecchiamento, appassionando ancora più giocatori che si sono avvicinati alle dinamiche specifiche di un determinato titolo. Ed è proprio qui che risiede l'energia illimitata di questo universo. Voi che guardate questo video. Ebbene sì, voi avete il potere di far vivere o morire un titolo, proprio come un pubblico urlante nel Colosseo. Ma in che modo? Avendo la possibilità di scegliere o meno un gioco, dando a quest'ultimo forza di andare avanti o drenarlo della sua linfa vitale. Che poeta, Arconte! Spiegati meglio? La situazione è semplice e ve la riassumerò in tre punti. Uno, venite a sapere che sta per uscire un nuovo TCG e vi avvicinate al progetto cercando di capire meglio se potrà essere un prodotto valido che varrà la pena acquistare o meno. Qui si diramano due scelte. Lascio stare, dato che già dal principio non mi interessa, voglio saperne di più ed accedo al punto 2. Vedo il design accattivante ed inizio a fare ricerche sul web per saperne di più a riguardo, documentandomi anche sul regolamento, comprendendone le dinamiche che possono essere facili o difficili da applicare. Qui si diramano ancora due scelte. Lascio stare perché lo stile di gioco non ha catturato la mia attenzione, tutto sembra molto interessante ed accedo al punto 3. Inizio così a stampare, se possibile, carte proxy per giocare con gli amici, dato che tutta la struttura del gioco mi ha preso, iniziando a parlarne in giro, catturando l'attenzione di altri giocatori che, a loro volta, inizieranno dal punto 1. E così via, fino a quando non si creerà un binomio di dati. Sì e no. Se il sì supererà il no, allora il TCG in questione attecchirà vivendo una vita che sarà più o meno lunga, mentre se il no sarà a prevalere, le carte reali non toccheranno mai i tavoli di quel determinato centro ludico. Ovviamente spetterà poi alla casa madre creare sempre più innovazioni atti a stuzzicare la curiosità dell'utente finale, che sembrerà essere un ingranaggio di un più grande macchinario, ma a volte ci si dimentica che invece è l'orologiaio stesso. E questo chi sta ai piani alti lo sa, e anche bene, dato che dalle vendite di alcuni prodotti deriverà la vita o la morte del titolo stesso. Quindi via a lavorare senza sosta per far uscire un nuovo articolo, tenendo l'attenzione del giocatore sempre alta, in modo da non permettergli di perdere la nuova chicca per nessuna ragione al mondo. Sia chiaro signori, questa non è una critica, ma la realtà dei fatti. Se un TCG muore è perché non c'è interesse, e la miriade di scheletri che dal 93 ad oggi questo mondo si è lasciato alle spalle ne è la prova. Non ci credete? Questa è la lista presa da Wikipedia dei diversi articoli pubblicati in questi lunghi 30 anni. L'ultima casella indica se il gioco in questione è ancora in produzione o meno. Guardate quanti titoli, oramai sono solo un lontano ricordo. Questo per farvi capire che tra la moltitudine di prodotti solo quelli che riescono a centrare l'attenzione del consumatore alla fine sopravvivono. Tutti gli altri purtroppo no. Quindi all'affermazione sono troppi? Rispondo. Vedremo come reagirà il pubblico al completo. Magari a qualcuno non interesserà, mentre a molti altri ancora sì. Come per One Piece ad esempio, anche se lì il discorso è leggermente diverso. Infatti dati alla mano, i titoli con un grande franchise alle spalle tendono a sopravvivere di più rispetto a chi non ha una base di partenza dove si è conosciuti per altri motivi. A parte Magic, che ha il titolo di primo della storia e questo basta e avanza, per Pokémon, Yugi e per l'appunto One Piece c'è la serie animata, il manga e molto altro che hanno fatto avvicinare i fan alle diverse saghe di CG compresi. E per i set a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, Arconte, come te lo spieghi? C'è una soluzione anche per quello ed è una pura manovra di marketing. La pratica si chiama sovraspendere la concorrenza e funziona in questo modo. Se devo attirare l'attenzione di un cliente per far sì che si dimentichi della mia concorrenza, devo occupare ogni singolo spazio presente nella sua testa. Questo principio è ciò che muove chi gioca ad acquistare preordini che usciranno fra un anno, nuovi set in arrivo che neanche in Giappone sono stati ancora commercializzati, esclusive particolari, collezioni da collezionisti giocabili solo da giocatori e chi più ne ha più ne metta. Ed io, casa madre, so che se tardo di un giorno nell'annunciare il mio nuovo articolo di punta che vedrà un cambiamento drastico e innovativo rivoluzionario, darò spazio e terreno a chi vuole proporre i suoi di prodotti sovraspendendo me. E il circolo quindi si ripete ancora ed ancora in un loop infinito che non smetterà mai di muoversi. Questo è il mercato. Concludendo, non credo ci sarà mai un vero e proprio crollo dell'universo dei TCG, e credo che quando ciò accadrà non sarà un affar nostro. Questo perché dove ci sarà un solo giocatore scontento, altri vorranno invece provare il titolo del momento e le dinamiche che lo muovono, decidendo infine, solo dopo averlo testato, se varrà la pena investirci o meno. Ricordate la sfilza di no dell'ultima colonna vista poco fa? Ci sono poi altri fattori che non prenderemo in considerazione in questo video, come le diverse scelte commerciali, le piattaforme sulle quali sponsorizzarsi, pubblicizzarsi, le campagne Kickstarter, la campagna di promozione fatta ad inizio lancio, le fasi di pre-release e molti altri concetti da prendere in considerazione. Quest'oggi però abbiamo parlato del più importante tra essi, ovvero voi e solo ed esclusivamente voi, la linfa vitale che muove un gioco e ne condanna le sorti, il giudice, giuria e carnefice che valutano la qualità del prodotto e ne esaggiano l'efficacia, esprimendo infine un giudizio positivo o negativo, lo chef stellato che apprezza un piatto ben cucinato o lo lancia a mo' di frisbee in aria detestandone la composizione. Insomma, il fattore fondamentale. Voi. Quindi non abbiate timore se vi sembrerà che la sovrabbondanza dei GCC causerà nell'avvenire una saturazione del mercato, con conseguente implosione del settore che ne causerà infine l'estinzione. Vi basterà guardare al passato per comprendere come andranno le cose in futuro. È da lontano 1993 che vengono commercializzati di media 13 titoli all'anno. Ed è sempre stato, ricordatelo, merito vostro, se un gioco è sopravvissuto nell'arena o si è visto un bel pollice verso che ne ha decretato la fine. E voi, quale TCG in arrivo nei prossimi mesi state aspettando o siete intenzionati a provare? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.